Torna finalmente a rivivere il risotto Venturini al ristorante di Renzo di Chieti. Ma com'è nata l'idea? Lo chiediamo al giovane chef Lorenzo Leva. L'idea è nata perché tempo prima tutti ne parlavano, i miei clienti e la mia famiglia dicevano ma ti ricordi il risotto della Venturini? E io tutto incuriosito dicevo che cos'è questo risotto? Informandomi perché ormai vivo in un'era dove si vive nei social, informandomi sui social vengo a scoperto alcuni ingredienti di questo risotto e ho provato a replicarlo. All'inizio con scarsi risultati, sono arrivato poi al dunque dove contattai la signora Giovina che colgo il momento per ringraziarla ancora per l'opportunità e per la fiducia che mi ha dato per far rinascere questo risotto e con tanto di pergamene in mano, datomi dalla signora Giovina e che ho scritto tutti i procedimenti di questa ricetta. Era presente anche il sindaco di Chieti? Esatto, sì, pure lui era presente. Comunque un risotto molto conosciuto, un risotto portato alla ribalta dal noto regista Federico Fellini ma anche tanto chiacchierato dall'ex ministro Remo Gaspari, ma sostanzialmente come è fatto questo risotto alla Venturini? Beh, questo risotto è fatto a tutto un suo mondo in realtà, è chiamato risotto ma è fatto in procedimenti che non mi aspettavo proprio che ci fossero. principalmente sono funghi, mozzarella e poi il segreto è chiamato tale perché deve essere tale. Bene, ma come si accompagna questo risotto per gustarlo nel migliore dei modi? Questo risotto ho mantenuto un po' la tradizione perché all'epoca veniva accompagnato con un vino rosso e io oggi ho scelto un vino rosso, cioè il vino rosso di Rocchi Marciano. L'ho scelto perché si abbinava perfettamente sia a livello strutturale del vino e sia a livello della storia di quel vino. Oggi presentazione alla stampa, quindi siete tutti felici e soddisfatti ma per venirlo ad assaggiare tutti i giorni? Sintesi sì, allora fisso c'è il fine settimana, sabato e domenica lo facciamo fisso che lo troverete nel menù. Mentre se volete assaggiarlo un martedì o un mercoledì basta chiamare un'oretta prima e è il tempo di prepararci la linea. Allora in bocca al lupo. Grazie Crepi.